Questa azienda ha fatto il 2170% da quando è stata quotata 30 anni fa, aumenta il dividendo del 13% all'anno e quindi vuol dire che ha dato più o meno un 72% anno per anno, se si divide questo 2171% per i 30 anni. Anche se non è il CAG, mi raccomando, non vi arrabbiate. Andiamo a scoprire chi è. L'azienda di oggi è Best Buy, leader negli Stati Uniti dell'America con i suoi negozi per l'acquisto di cosa? È un'azienda che si occupa prevalentemente di vendita di materiale elettronico e elettrico, quindi ha circa 90.000 dipendenti negli Stati Uniti e in Canada e ha più di 1.000 negozi. Ma non è tutto oro quello che luccica, a meno che non lo lucidate bene e lo ricoprite con dell'ottone per farlo sembrare tale, perché ci sono alcuni dati negativi. Però l'azienda, secondo me, è in una fase di ripresa. Vi faccio vedere i dati finanziari a breve. Andiamo a vedere prima, principalmente e brevemente, l'ultima trimestrale per capire cosa è andato male. Poi andiamo a vedere i numeri nel loro complesso e poi ovviamente andiamo a analizzare il dividendo dell'azienda. Prima di tutto, nell'ultimo report fatto ad agosto del 2024, possiamo vedere che le comparable sales sono diminuite del 2-3%, il gap diluted EPS è salito del 3%, non gap diluted EPS è salito del 10%. Quindi possiamo vedere che l'azienda si aspetta la differenza fra il fatturato del secondo quarto 2024 e quello del 2025 in calo, così come il domestic segment, l'enterprise segment e l'international segment. Quindi si aspetta che queste vendite vadano effettivamente a calare. È un trimestrale che non è stato un granché, però allo stesso modo quelle che sono le prospettive per il 2025 non sembrano essere così brutte, anche se effettivamente non sono dei grandi numeri. Andiamo a vedere un attimino qui cosa fa Best Buy un po' più nel dettaglio prima di andare a vedere i numeri. Lo guardiamo qui su SeekinAlpha, magari faccio che lo traduco così leggo molto più velocemente. E' attiva nella vendita al dettaglio di prodotti tecnologici negli Stati Uniti e in Canada e anche a livello internazionale. Io ho provato ad acquistare da Best Buy ma non spediscono qui da noi, anche perché i prezzi sono eccezionalmente bassi. I negozi offrono prodotti informatici, telefonie mobile come desktop, notebook e periferiche, telefoni cellulari, elettronica, smartwatch, e-reader, anche dei contratti telefonici di consumo composto da prodotti per l'imagining digitale, salute fitness, audio portatile, home theater. L'azienda offre i suoi prodotti tramite negozi di siti web con i marchi Best Buy, Best Buy Ads, Best Buy Business, Best Buy Health, Boy Mobile, CST, Current Health, Geek Squad, Lively, Mongolia. Ce ne sono una marea ragazzi. In precedente l'azienda era nota come Sound of Music Incorporated Best Buy Company ed è stata costituita nel 1966 e ha sede a Richfield, Minnesota. Per cui l'azienda esiste nel 1966 ma si è quotata come Best Buy nel 1994, come possiamo vedere qui, novembre 1994. Prima di continuare vi ricordo che la maggior parte delle schermate che vedete sullo schermo con i dati finanziari sono presi da Seeking Alpha che purtroppo non sponsorizza questo video, magari potesse avere qualche miliardo di euro da parte di Seeking Alpha, da parte loro, ma dalla quale sono riuscito a ottenere dei link affiliati con degli sconti che arrivano fino al 20%, sia per la sottoscrizione appunto a Seeking Alpha e i suoi servizi, ma anche alle loro AlphaPix, quelle dove vengono selezionate le aziende che secondo i selezionatori di Seeking Alpha hanno una maggiore probabilità di fare degli enormi capital gain. Link in descrizione, ma continuiamo. Dicevamo 2171%, più o meno, se dividiamo questi 30 anni sono un 71% circa. Nell'anno corrente ha riperso quasi un 25%, year to date 21% e nell'ultimo mese 10%. Quindi l'azienda ha avuto dei buoni numeri recentemente. Il suo dividendo al momento è il 3,80%. Andiamo a vedere questo dividendo com'è gestito. Abbiamo 3,80% come dicevamo prima di rendimento da dividendo, paga 3 dollari 76 annualmente e ha un payout ratio del 56-79%. Negli ultimi 5 anni questo dividendo è cresciuto del 13,91% e cresce continuamente da 13 anni, viene distribuito in maniera trimestrale. Vediamo qui di sicurezza i dividendi D. Andiamo a vedere un attimino cosa significa, ma prima vediamo la crescita dei dividendi. Negli ultimi 3 anni ha avuto un caldo del 12,17%, negli ultimi 5 l'abbiamo visto prima 13,91% e negli ultimi 10 anni questo dividendo è cresciuto del 18,24%, un numero veramente molto importante. Andiamo a vedere appunto che questo dividendo dal 2014, che era 72 centesimi di dollaro, è passato a 3,68%, quindi è aumentato 5 volte tanto, 6 volte tanto, è un bell'aumento di dividendo e possiamo vedere anche il dividendo qui come è aumentato nel tempo. Si parlava di sicurezza del dividendo, perché? Perché il rapporto di distribuzione dei dividendi rispetto per esempio al cash dividend payout ratio, al dividend payout ratio gap e così via, tutte queste metiche sono piuttosto alte, più o meno il doppio di quello che è la media di mercato e comunque rispetto alla differenza della media degli ultimi 5 anni da parte dell'azienda, anche in questo caso più o meno ci troviamo al doppio. Quindi è un'azienda che deve rimettere qualcosa a posto e lo vediamo a breve cosa sta succedendo, perché effettivamente stanno riducendo un po' di costi, stanno chiudendo un po' di negozi per ottimizzare quello che è l'introito dai loro negozi. Però comunque la copertura degli interessi è piuttosto alta in questo momento e anche quello per quanto riguarda net long debt rispetto agli asset e net long debt rispetto all'ebitda sono due metriche piuttosto buone, per cui il dividendo non è sicurissimo ma non è a rischio a mio parere. Parliamo di quello che è appunto la salute finanziaria di Best Buy, fatturato che dal 2021 essendo negozi fisici ha avuto diciamo un picco nel 2022 e adesso stanno un po' scendendo così come il profitto lordo anche in questo caso e l'operative income che anche in questo caso dal 2022 stanno un po' scendendo. Balance sheet in questo caso possiamo vedere che gli asset totali hanno avuto un calo anche in questo caso dal 2021 perché si sono chiusi diversi negozi, più o meno rispetto al 2023 un po' meno ma si stanno chiedendo i negozi per ottimizzare quella che è appunto la qualità della vendita e il profitto delle vendite. Infatti si può dire che rispetto al 2015 quindi quasi 10 anni fa la quantità degli asset è stagnante, è leggermente più alta ma diciamo che è uguale a 10 anni fa. Per quanto riguarda invece le liabilities anche in questo caso si erano raggiunti dei picchi nel 2022 ma tramite la vendita di questi negozi possiamo vedere che poi anche queste liabilities sono in calo e più o meno si sta tornando ai livelli del 2019, comunque secondo me quello che si vuole fare, scusate il 2020 si vuole tornare a dei livelli molto più bassi. L'ultima parte è quella del cash flow, vediamo che l'azienda ha comunque un cash flow sempre positivo quindi ha della cassa nelle proprie tasche che può aiutare in momenti difficili e anche dal punto di vista della campagna di buyback possiamo vedere che loro hanno delle campagne di buyback continue per cui cercano di aumentare il valore degli azionisti non solo tramite l'aumento del dividendo che come abbiamo visto aumenta nel 18% in media negli ultimi 10 anni ma anche dal punto di vista del capital gain perché negli ultimi 10 anni comunque possiamo vedere che ha fatto un 195% per cui un rendimento di tutto rispetto, più o meno dividiamo per 10 abbiamo un 19,5% ricordo che questo non è il CAGR. Ovviamente Best Buy ha delle problematiche che vanno affrontate però ha un dividendo crescente l'azienda sta mettendo i propri conti a posto per cui è da approfondire bene tutti i loro bilanci e vedere le loro trimestrali e vedere quali sono gli obiettivi del management per il futuro e quali sono gli investimenti che stanno facendo e le strategie che stanno applicando. Vi ricordo se apprezzate questi contenuti trovate qui di fianco i modi in cui sostenermi, potete sostenermi semplicemente iscrivendovi al canale o supportandomi iscrivendovi con i link affiliati qui sotto oppure facendo delle donazioni. Come sempre ricordate che vi voglio bene a tutti e noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!